Barbara Durso umiliata, sei una ricattatrice ignobile, ecco chi l'ha accusata. La conduttrice napoletana ha ricevuto delle pesanti critiche, ecco da parte di chi. Lo scorso lunedì in prima serata su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento del Grande Fratello 15 che ha regalato una serie d'emozioni a tutti i telespettatori. La padrona di casa Cancelletto Barbara Durso nonostante la forte concorrenza del commissario Montabano, è riuscita a raggiungere degli ottimi ascolti. Tuttavia, gran parte del pubblico italiano non apprezza il reality mediaset soprattutto per conduzione affidata a Lady Cologno. Tra questi che è anche Elenoire Ferruzzi, l'insolente voce del web che negli ultimi anni è diventata popolare grazie ad alcuni post offensivi sui social network, in particolare su Cancelletto Twitter. L'esuberante donna che è una delle sostenitrici della comunità LGBTQ, lesbiche, gay, bisessuali e transgender, ha fatto delle pesanti accuse contro la Durso e il programma targato Endmol Italia. Elenoire Ferruzzi contro Barbara Durso e le reality Grande Fratello. Alcune ore fa la Ferruzzi attraverso il suo profilo Twitter ha sollevato un ennesimo polverone mediatico perché si è scagliata contro la conduttrice partenopea. Elenoire ha affermato che le cause della diffusione dell'epatite ci possono essere molteplici, l'alcol, una vita sfrenata, rapporti non protetti e infine guardare il Cancelletto Grande Fratello condotto da una persona grande portatrice di batteri e di altissima carica virale. Ma lo sfogo della donna non è terminato qui. Infatti quest'ultima ha accusato Lady Cologno di speculare in televisione certi argomenti molto delicati come l'omofobia solo per raggiungere degli ottimi ascolti. Sei una squallida, ignobile e volgare ricattatrice, ha ribadito la Ferruzzi. Infine ha dichiarato che vengono spesi tantissimi soldi per produrre questi programmi inutili e ha consigliato al pubblico di aprire gli occhi perché è all'interno della casa che è del marcio. Ci sarà un confronto tra le due donne. L'esuberante Elenoire non si è risparmiata nel criticare il reality show di Canale 5 e soprattutto la conduttrice napoletana. Quale sarà la reazione della D'Urso appena verrà a conoscenza di queste esternazioni? Farà finta di nulla come il suo solito o le lancerà una frecciatina velenosa durante la messa in onda dei suoi programmi? Ci sarà un confronto a pomeriggio 5? Per scoprire altre informazioni sulle clamorose dichiarazioni della Ferruzzi, vi invitiamo di seguire in tanti il canale Barbara D'Urso qui su Bastino e Nieves. Grazie a tutti.